Quando è stata l'ultima volta in cui hai pianto? Non tantissimo tempo fa, forse dieci giorni fa ho pianto. Me lo vuoi raccontare? Rientravo a casa dopo un paio di settimane impegnative e quando sono ritornata in casa mia, quando sono andata in camera mia mi sono seduta sul letto e ho pianto di gioia perché ero a casa e stavo bene e tutto era andato bene. Mai paura di esporti, politicamente, a livello femminile, per dire quello che pensi. È una cosa abbastanza rara perché non è così, come dire, non lo fanno tutti. E soprattutto non hai paura. Ora, come si fa? Non è vero che non ho paura. Io ho molta paura. Perché la paura ti serve a non fare passi falsi e non essere azzardato. Quindi è una paura che riesco a controllare. E più riesco a controllare la paura e più mi sento una persona equilibrata, come dire, focalizzata su quello che voglio fare e voglio dire veramente. Tra professare, non sono una che professa finte libertà, io sono libera veramente fino in fondo. E più che dirlo a parole, lo dimostro appunto con i fatti. Perché, non perché questo mi rende migliore degli altri. Io sono sempre stata così, libera. Se non dico quello che penso, vado a dormire col mal di pancia la sera. E preferisco buttare fuori piuttosto che tenere dentro, perché poi ci si ammala. Perché si vive una volta sola e voglio dire sempre quello che penso. Perché magari un domani sarà un buon esempio per qualcun altro. Giochiamo a carte proprio scoperte. Com'è stato scoprire di dover combattere ancora, mentre sta uscendo il tuo nuovo album, mentre tu ti appresti a fare di nuovo una cosa grande. Quindi, passo indietro, com'è stato il momento in cui tu hai... Beh, è stato... Mi sono arrabbiata perché avevo preso degli impegni col mio pubblico. Non ho fatto quella che sparisce nel nulla così tanto per sparire. Quindi ho detto la verità, ho semplicemente detto la verità per una questione proprio di rispetto nei confronti del mio pubblico e ho detto quello che andava detto. Ho un problema, lo vado a risolvere e torno. E così è stato. L'ho risolto, l'ho accettato. Più che combattere, ecco, non ho combattuto, non ho reagito. Perché a volte si pensa che combattere sia sempre una reazione positiva, invece accettare ti mette da un punto di vista di passività, no? Io invece l'ho accettato e basta. Non l'ho voluto combattere, l'ho accettato. L'ho accettato e per assurdo è stato tutto molto più sereno e rilassante perché mi sono rotta le palle di combattere. Preferisco accettarle le cose perché secondo me ci vuole molta più forza ad accettarle che a respingerle, che a combatterle. Quindi l'ho accettato con grande serenità, con grande coraggio e soprattutto sono rimasta, non che non me l'aspettassi, però sono rimasta scioccata dall'amore che mi ha sommerso da parte della gente. Le persone mi hanno rispettata tanto in questo, come donna e poi come artista. e quindi l'ho trovato meraviglioso. Ecco perché avevo voglia di risolverle, di tornare subito a fare quello che è giusto fare. Se tu avessi una figlia, immaginati una Emma ventenne, no? Anzi, quindicenne, che scopre di avere una cosa come quella che stai vivendo tu. Che cosa le diresti per saperla affrontare? Che cosa bisogna fare? Non lo so. Sarei bugiarda. Non lo so, non sono madre. Non lo so cosa si prova dentro, cosa ti si muove dentro. Io ho visto mia mamma e per la prima volta l'ho vista piccola. Cioè ho visto mia mamma piccola e quasi sono stata io a cercare di tenere unito il blocco, mamma, papà. Ecco anche nel dolore, ecco io neanche mia mamma ho fatto vedere veramente quanto dolore potevo provare anche insomma dopo l'intervento mi sono tirata giù dal letto subito perché per me era più importante far vedere a loro che io c'ero ed ero informissima e che era andato tutto bene. E quindi forse, non lo so, non sono mamma, sono figlia. Senti, mi viene in mente una canzone di Samuele Bersani che dice Non ti spaventerai con le mie paure, un giorno che mi dirai le tue dovremo un modo di rimuoverle perché in due si può lottare come dei giganti contro ogni dolore. Chi ti ha aiutato a lottare come un gigante contro ogni dolore in questo momento? Non vorrei sembrare presuntuosa però io perché per quanto le persone ti dimostrino amore dalla famiglia, ai tuoi migliori amici poi sei tu che devi fare i conti sempre con te stessa quindi è stata la mia testa il modo in cui mi sono proposta dall'inizio nei confronti di tante situazioni sì, sono una combattiva, sono una riflessiva e quindi ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno ma è mezzo vuoto quindi anche nelle disgrazie più totali nei momenti più tremendi cerco di... dico sempre che esiste un karma, esiste un destino se è successo a me come succede a tanta gente perché doveva andare così però credo anche che poi magari dopo c'è un risvolto c'è sempre un risvolto positivo e io l'ho già visto perché oggi sono una persona molto concreta ma continuo ancora a sognare continuo ancora ad essere una visionaria non mi sono indurita non mi sono in cattività ecco invece di diventare rabbiosa invece sono forse anche più dolce e anche forse più simpatica mi vedo più simpatica cioè non sono più forse perché appunto capisci quali sono veramente le cose importanti va bene così cioè va bene, va bene, va bene così infatti sempre nel nuovo disco dici voglio imparare ad accettare quello che la vita mi metterà davanti ma soprattutto dici voglio imparare a non finire mai spiegami perché è una frase bellissima cosa vuol dire? questa frase sono onesta me l'ha detto una sera a cena Ornella Vanoni e mi ha detto bambina mia impara nella vita a non finire mai e mi è rimasta proprio impressa ed è vero cioè voglio imparare nella vita a non finire mai non c'è mai una fine nelle cose che uno fa nell'amore nelle esperienze non mi sono mai sentita arrivata e spero di non sentirmi mai arrivata da nessuna parte ecco a proposito di dei sognatori so che hai fatto hai scritto delle canzoni una canzone con Franco 126 sì e mi piace perché lo ringrazio anche per i gin tonica a Milano spiegami che cosa perché stupida allegria è nata proprio da una serata a Milano per caso dopo una serie di gin tonic perché e da lì ci siamo eri in giro a Milano insieme ad altri miei in comune mi hanno raggiunto in albergo abbiamo iniziato a parlare di musica abbiamo iniziato a parlare di tanti concetti e da lì è nata questa questa voglia insomma di Franco poi di scrivere questa canzone che è il frutto di quello che ci siamo trasferiti durante la serata quindi non è stata una un'accoppiata diciamo a tavolino dalle case discografiche sai chiediamo io non mi piace chiedere le canzoni cioè se arrivano bene altrimenti ci deve essere qualcosa di vero e quindi stupida allegria è nata veramente da una serata in compagnia a base di gin tonic e lui ha trasferito tutto quello che ci siamo detti in questa canzone che poi è stupenda è successo così anche con Vasco? Vasco ha deciso lui di sua spontanea volontà di scrivermi questa canzone perché se non sbaglio era rimasto colpito da un paio di interviste mie che avevo letto sul disco precedente poi so che era andato anche su internet a sbirciare i miei vecchi video aveva trovato anche una mia versione di la nostra relazione ed è stato avuto anche il coraggio di dirmi eh Cassa l'hai cantato anche meglio di me ho detto no dai Vasco mi sembra un po' esagerato mi ha scritto una canzone perché dice che sono una tipa forte, coraggiosa e che meritavo una canzone e quindi sono orgogliosa di questo senti dice che l'amore è quando non ti difendi quando ti sei dovuta difendere dall'amore? il problema è che io dall'amore non mi difendo mai perché altrimenti non è non è amore vuol dire quando ti difendi vuol dire che una parte di te è razionale e sta calcolando e sta valutando la relazione e quando smetti di valutare di calcolare i rischi che vuol dire che secondo me ami veramente una persona e rischiando anche di perdere te stessa per quella persona secondo me è quello l'amore vero quando è l'ultima volta che hai smesso di valutare i rischi e ti sei innamorata? due anni fa com'è stato? devastante l'amore dà e l'amore toglie però vale comunque la pena provare quella sensazione di di buco nello stomaco di voglia veramente di sentire l'odore di quella persona la voce di quella persona di guardarla negli occhi e provare a immaginare ed è come quasi guardarsi allo specchio rispecchiarsi in un'altra persona poi vabbè va a puttane però almeno uno ci prova se ti potessi sdoppiare e tu sei sul palcoscenico e stai per iniziare ti vedi dalla dalla folla dal pubblico che cosa diresti ad Emma? beh figa dai non male grazie grazie a te grazie a te